come sempre non può mancare il nostro collegamento con biaggio mannino buongiorno biaggio buongiorno graziano buongiorno ci siamo anche oggi dunque tutti i temi veramente importanti temi caldi come si suol dire da affrontare se ti cominciamo da casa nostra nel senso che noi giriamo sempre tutto il mondo tu parli sempre ovviamente di tutte le situazioni a livello internazionale magari fra poco ci ritorneremo ma ogni tanto diamo un'occhiata e tastiamo il polso anche alla politica italiana e lo facciamo perché ripetutamente di mese in mese vengono riproposti dei sondaggi vengono insomma si capisce quale il gradimento ovviamente anche a livello di governo e quant'altro quali sono le ultime notizie in tal senso la politica italiana sembra essere tornata a quella dei tempi precedenti al governo draghi perché l'esperienza del governo draghi aveva mostrato come poi in definitiva i partiti si fossero messi sostanzialmente in un angolo di fronte alla forte presenza di draghi al governo con quella maggioranza che ormai lo sappiamo bene era composta un po da tutti tranne che da fratelli d'italia e proprio fratelli d'italia sta raccogliendo in questo momento sempre di più il consenso un consenso che sembra non finire mai le elezioni già avevano dato un risultato lo sappiamo bene estremamente favorevole al punto tale che giorgia meloni è divenuta presidente del consiglio e che i sondaggi poi successivamente ripetuti anche settimanalmente danno un'idea di continua affermazione del centrodestra in generale ma di fratelli d'italia di giorgia meloni in particolare è un consenso che viene dimostrato sostanzialmente dai numeri dove sebbene ovviamente di settimana in settimana i valori tendono a aumentare di pochi decimali comunque mostrano questa questo trend e ci si chiede a un certo punto quando verrà anche la pausa di 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 assestamento di questa di questa crescita anche perché nonostante quanto sta accadendo in italia in questo momento le varie polemiche legate soprattutto ai costi della della benzina non sembrano aver toccato sostanzialmente la vicinanza da parte degli intervistati che poi rappresentano sostanzialmente un campione che rappresenta un modo di vedere più esteso e non sembra aver attaccato appunto questa vicinanza nei confronti di fratelli d'italia di giorgia meloni e anche di lega e forza italia che in un modo o nell'altro sebbene lontane dai numeri che fratelli d'italia sta ottenendo comunque ottengono un consenso che è evidenzia che il centro destra in generale in questo momento è visto con grande con grande favore e differente alle situazioni invece al centro sinistra se il movimento 5 stelle comunque ha tenuto sostanzialmente le posizioni e si sta affermando come secondo partito secondo i sondaggi nel contesto nel contesto italiano è pertanto vero comunque dobbiamo ricordare che i numeri hanno evidenziato come rispetto alle elezioni del 2018 ci sia sostanzialmente stato un dimezzamento mentre fratelli d'italia è passata dal 4 per cento quelle percentuali che oggi con i sondaggi sfiorano o addirittura superano la seconda degli istituti di sondaggio il 30 per cento invece il movimento 5 stelle ha tenuto rispetto delle previsioni che venivano fatte in fase pre elettorale c'era chi supponeva un disastro totale per quanto riguardava il movimento 5 stelle invece questo non è andato non è andata così e nel contesto appunto dell'opposizione si sta dimostrando sostanzialmente essere il primo partito il PD si sta invece apprestando ad affrontare il congresso e questo il congresso che è nato anche questa esigenza sostanzialmente subito dopo le elezioni e il disastroso risultato ottenuto e al trattato vero che l'attesa così lunga del per appunto andare a fare una verifica interna nel contesto del del PD forse necessitava dei tempi decisamente più brevi perché il problema si è venuto a realizzare proprio in ambito elettorale e attendere e mostrare sostanzialmente voler far passare un periodo così così lungo sta evidenziando come nell'ambito dei sondaggi continui il PD a scendere nell'ambito dei consensi da parte appunto degli intervistati. Un PD che sta mostrando anche in fase precongressuale delle caratteristiche che abbiamo già visto anche in altre occasioni ovvero una certa litigiosità interna una sorta di volontà da un lato di portare avanti un qualche cosa che faccia cambiare strada che ponga delle alternative alla situazione di difficoltà che sta oggettivamente vivendo in questo momento ma dall'altra parte l'impressione è che proprio quella litigiosità e soprattutto andare alla ricerca di tante variabili interne che in un modo o nell'altro pongano anche dei paletti dà l'impressione che poi alla fine le cose non cambieranno tanto ed è questo un punto che il PD dovrebbe affrontare principalmente proprio perché la storia ci ha dimostrato la storia di quel partito come nel tempo ci sia stata una perdita e soprattutto una visione da parte degli elettori del PD e non solo degli elettori del PD di come internamente non ci sia sostanzialmente un'anima effettiva di un partito bensì una pluralità di situazioni e che portano anche a divisioni e riunificazioni ricordiamo negli ultimi anni la separazione all'interno del PD di articolo 1 dopodiché di Renzi che appunto doveva essere il grande riformatore che doveva cambiare le cose la famosa rottamazione per rendere l'idea è poi uscito anche lui e insomma un partito che sta mostrando delle complesse dinamiche e questo congresso potrebbe essere l'occasione per dare un'effettiva svolta ma come detto i segnali al momento dimostrano il contrario in pole position per la nomina a nuovo segretario del PD secondo i sondaggi e Bonaccini anche se nel contesto interno come detto le sfide non mancano e sono sfide anche particolarmente intense andando ad evidenziare come appunto le dinamiche interne stiano mettendo in evidenza delle problematiche particolarmente importanti e che probabilmente vedremo in maniera decisa proprio nel corso del congresso in sé Staremo a vedere come al solito Senti però adesso dobbiamo tornare sicuramente in altri lidi e io direi, viste le polemiche anche di questi giorni, magari in Cina, che ne dici? Dobbiamo usare il condizionale per affrontare l'analisi geopolitica nell'ambito della Cina perché quanto stiamo assistendo non ha delle fonti così certe come si potrebbe ritenere non arrivano dati ufficiali dalla Cina questo è un aspetto importante da tenere conto e soprattutto determinati segnali fanno guardare con grande prudenza quello che effettivamente in Cina stia accadendo si parla dell'aumento vertiginoso dei contagi, dell'epidemia di Covid-19 nel contesto cinese estremamente vertiginoso tant'è vero che le valutazioni che vengono fatte anche sul contesto di stranezza che tutto questo fenomeno caratterizzi la questione in sé perché dobbiamo ricordare che la politica zero Covid di Xi Jinping era estremamente dura, estremamente di chiusura al tutto tale che poche unità di contagi che venivano rilevate portavano a imposizioni di lockdown di aree urbane come poteva essere la città di Shanghai insomma interventi che venivano portati in maniera dura e decisa e questo ovviamente ha portato anche dei malesseri nell'ambito sociale e nell'ambito anche della struttura economica e produttiva cinese perché di fatto diventava tutto quanto particolarmente ingestibili basti pensare che determinate aziende dove veniva rilevata la presenza del Covid venivano sostanzialmente chiuse gli operai non potevano uscire più dall'azienda pur continuando a lavorare insomma delle situazioni particolarmente dure da qui un malessere sociale che ha portato a delle manifestazioni delle vere e proprie rivolte in certi casi particolarmente intense delle problematiche per Xi Jinping ma non possiamo dimenticare che Xi Jinping di problematiche ne ha tante all'interno anche del contesto dello stesso partito comunista cinese la direzione è stata esattamente opposta l'apertura all'abbandono della politica zero Covid e da lì ha quasi immediatamente un aumento in maniera importantissima dei contagi e da qui il problema il problema è riuscire a interpretare quello che effettivamente in Cina sta accadendo perché a quel numero così ampio di contagi ha anche delle testimonianze particolarmente intense inerenti proprio alla capacità di reazione e di accoglimento che le realtà ospedaliere cinesi hanno ebbene non giungono notizie però ufficiali da parte del governo cinese allora qua gli scenari sono molteplici da un lato una volontà di mantenere nascosta la reale situazione però è altrettanto vero che la Cina è un paese oggi talmente importante è al centro delle logiche internazionali che diventa anche difficile non stiamo parlando della Corea del Nord ecco per rendere l'idea della situazione dall'altra parte una politica per Xi Jinping è particolarmente difficile in ambito esterno perché la Cina viene vista ovviamente con grande preoccupazione ma anche in ambito interno per Xi Jinping è molto osteggiato all'interno del partito comunista cinese e lo ha dimostrato anche il percorso che Xi Jinping ha voluto adottare nel corso del ventesimo congresso del partito comunista cinese ma altre notizie che ci inducono a utilizzare il condizionale vengono dallo Xinjiang lo Xinjiang lo sappiamo questa enorme area regione della Cina la più grande regione in termini di estensione della Cina ma fondamentale per quanto riguarda soprattutto le risorse naturali e il gas in particolare ci troviamo nella parte nord-occidentale della Cina dalla parte nord-occidentale della Cina per rendere l'idea si sta costruendo un gasdotto che porterà il gas nella grande città produttiva di Shanghai ecco perché lo Xinjiang è fondamentale da lì abbiamo visto nel corso del tempo come soprattutto dall'Europa siano arrivate delle accuse nette e precise di abuso dei diritti umani nei confronti degli amminoranze degli Uyghuri dello Xinjiang ebbene una delegazione composta da esperti islamici proveniente da diverse realtà dall'Egitto, dall'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi e altri paesi ha fatto i complimenti per la gestione alla Cina di quanto la Cina fa soprattutto nella prevenzione degli aspetti legati al terrorismo senza mai citare invece le problematiche con gli Uyghuri e anche qua gli interrogativi sono tanti ma allora la questione degli Uyghuri da parte del mondo islamico come viene affrontata e soprattutto quali sono quelle relazioni che spingono un mondo islamico ad avvicinarsi sempre di più a una Repubblica Popolare Cinese e viceversa sappiamo che gli interessi della Repubblica Popolare Cinese nei confronti in particolare dell'Arabia Saudita e di tutto il contesto della penisola arabica in particolare stanno aumentando sempre di più soprattutto dal 2020 dal momento in cui la produttività cinese precipitava per le questioni legate all'epidemia di coronavirus e la produttività calava in maniera importante facendo abbassare la domanda di petrolio alla fine di tutto questo la Cina si è mossa nella direzione dell'Arabia Saudita trascurando parzialmente quella iraniana è altrettanto vero però che la guerra in Ucraina ha fatto sì che la Cina diversificasse le fonti di approvvigionamento energetico e non solo perché gli interessi cinesi in Arabia Saudita sono forti, determinati e decisi soprattutto anche per andare in altri ambiti in altri settori quindi quello che noi in definitiva stiamo osservando nel contesto cinese interno ed estero ci impone di guardare comunque il tutto con delle dinamiche che ci portano a utilizzare il condizionale anche perché nell'ambito della questione legata all'affermazione della Cina ovviamente gli interessi sono molti e se vogliamo il gioco sta diventando sempre più intenso tra quello che è il rinato blocco occidentale e il contesto della Repubblica Popolare Cinese in questo caso C'erano altri temi ma non riusciamo ovviamente a sviscerarli Dimo di no No, infatti io direi che possiamo allora rimandare il tutto eventualmente se ci saranno anche altre informazioni e altre novità già la prossima settimana lunedì quando riprenderemo le nostre chiacchierate mattutine va bene? Ciao Graziano Buon weekend Grazie, ciao Ciao, ciao